Il programma di sviluppo rurale 2023-2027 avrà una dotazione aggiuntiva di oltre 40 milioni di euro rispetto alla precedente programmazione. Lo ha anticipato il vicepresidente della regione, Mirko Carloni, assessore all'agricoltura, in apertura dei lavori dell'osservatorio per le politiche agricole e lo sviluppo rurale, convocato nell'azienda agricola biologica Val di Castro a Fabriano. Essere riuscite a ottenere maggiori risorse da investire nello sviluppo delle marchi, ha sottolineato Carloni, è un fatto che ci deve vedere particolarmente orgogliosi perché frutto di una lunga negoziazione tra tutte le regioni italiane e che vede un riparto non più solo storico ma secondo nuovi criteri che siamo riusciti a introdurre. Siamo di fronte a un bivio molto importante e significativo per l'agricoltura italiana ma anche per l'agricoltura marchigiana. Da un lato i costi operativi che aumentano, la materia prima, l'energia che schiaccia il nostro sistema produttivo, dall'altro le regole europee, si sta iniziando una nuova programmazione di politica agricola comunitaria, c'è un nuovo riparto di fondi che per la prima volta gestirà lo Stato di PSR 23-27. Ci sono una serie di step che in qualche modo vedono nella agricoltura marchigiana una fase nuova e che non possiamo che gestire in modo consapevole. Per questa ragione c'è un confronto con tutto il sistema produttivo marchigiano, con anche gli interlocutori che abitualmente non sono associazioni agricole ma hanno a che fare con l'agricoltura e possono dare un loro contributo, un loro approccio alle scelte che dobbiamo fare. Più le scelte sono condivise e più di solito possono essere vicini e conformi agli agricoltori. Carloni poi ha lanciato l'idea e la strategia dell'enoturismo. L'agricoltura non solo più come fatto produttivo, come fatto di accoglienze e turismo diventerà un motore economico per la nostra regione. E siccome il vino e in qualche modo i percorsi del vino di fatto saranno dei cammini, qui San Romualdo intorno al 1000, tornato dal Cammino di Santiago da Compostela, ha fondato questa comunità. E quindi è legato al Cammino di Santiago e su questo noi cercheremo anche di fare una connessione con il governatore della Castiglia che conosco e cercheremo di in qualche modo connettere i cammini che noi faremo sul vino con quello di Compostela.